Nonno edizione per l'attività gratuita di educazione ambientale, la grande macchina del mondo, promossa da ERA nelle scuole di Ravenna e provincia. Obiettivo far diventare ai ragazzi cittadini consapevoli e sensibili verso il territorio e il pianeta che ci ospita. Tra le attività proposte, incursione lab, laboratori su acqua, energia e ambiente. È il nono anno che ERA offre il proprio contributo all'istruzione attraverso la grande macchina del mondo. È un progetto molto importante dedicato alle scuole primarie e secondarie. Ogni anno aumenta la richiesta che noi cerchiamo di soddisfare perché speriamo di riuscire a dare agli studenti degli strumenti per fargli comprendere come poter diventare cittadini responsabili e consapevoli nel loro futuro. Come potersi prendersi cura dell'ambiente, come rispettarlo e come lasciarlo. I laboratori vengono fatti con lo scopo di rendere i ragazzi consapevoli e un domani abbiano delle informazioni perché possano ragionare su quello che è, in questo caso nel laboratorio specifico che facciamo oggi, lo sullo spreco alimentare. Cosa ne pensi di questo laboratorio? Penso che mi serva per imparare qualcosa di nuovo e soprattutto per vivere una nuova esperienza. Posso servirmi nella vita, se da grande vorrò fare un lavoro di questo tipo, a impegnarmi a non sprecare il prodotto oppure anche nella famiglia aiutare un po' a riciclare.